Guido Guidesi, ci sono le coperture per dare quei famosi 80 euro che Renzi ha promesso agli italiani? Oggi è arrivato in commissione quel famoso decreto dei mitici 80 euro come l'ha chiamato il Presidente del Consiglio e scopriamo da una valutazione dei tecnici del servizio del bilancio della Camera dei Deputati che quelle coperture non ci sono. Non ci sono perché il Presidente del Consiglio ha previsto dei tagli alle società municipalizzate e alle amministrazioni pubbliche tra cui ovviamente gli enti locali come sempre che sono ancora una volta quelli più colpiti che non sono quantificabili per cui i tecnici ci dicono che le coperture non sono né certe né quantificabili. Noi chiediamo al Governo che dia una spiegazione perché non prenda in giro i cittadini. C'è il rischio quindi che sia stata solo una misura spot elettorale? Sicuramente una misura spot elettorale, poi Matteo Renzi ha fin qui dimostrato di essere un ragazzo molto fortunato per cui magari riuscirà a trovare le coperture con l'andare nei mesi prossimi. Vediamo se questo sarà vero, ciò non toglie che sta bleffando.